Oggi è un giorno importante, in cui abbiamo disegnato il futuro di una nuova banca. Un percorso che vede convergere banche con una storia centenaria, fortemente radicate e impegnate nello sviluppo dei rispettivi territori. Un progetto iniziato nel 2010, quando la Banca del Chianti Fiorentino si è unita a Banca Monteriggioni, a cui poi nel 2012 si è unito per acquisizione il Credito Cooperativo Fiorentino. Una storia che oggi, con l'arrivo di Banca Area Pratese e Banca di Pistoia, si arricchisce di un nuovo fondamentale capitolo, assumendo una dimensione e respiro regionale. Le Banche di Pistoia e dell'Area Pratese, integrandosi in Chianti Banca, potranno partecipare alla costruzione di una banca ancora più competitiva, ancora più forte e consolidata nel presidio commerciale di tutti i territori. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Il territorio delle famiglie sarà tutelato da indicatori di patrimonializzazione ben al di sopra dei minimi regolamentari e dei valori medi del sistema bancario. E la maggior redditività della nostra banca consentirà in prospettiva di destinare sempre maggiori risorse alle attività di Chianti Mutua e della Fondazione Chianti Banca, a beneficio di soci e clienti. Grazie ad una maggiore diversificazione territoriale e dei rischi, in tutte le zone a più elevato potenziale della Toscana, un orizzonte che ad ovest si estende fino a Pisa e Livorno, ad est ad Arezzo, a sud oltre Siena fino a Montalcino, Chianti Banca potrà candidarsi con maggiore autorevolezza al ruolo di player di riferimento regionale. Chianti Banca, la mia banca in terra Toscana. Grazie a tutti.